Come in effetti fu fatto attraverso la vicinanza con Aldo Milone, in questi 15 giorni di contattare e di vedere quelli che sono gli elettori di Marilena Garlier, gli elettori di Aldo Milone, gli elettori di Emilio Paradiso, di condurli, spiegargli quali sono i suoi motivi, ce ne sono tanti, e interrompere quello che è il ciclo che finora c'è stato e di mettere un nuovo ciclo, anche perché non è detto che chi ha votato Garnier, Milone o Emilio Paradiso traduca immediatamente il suo voto da un'altra parte. Il primo rimprovero fu a Biffoni è il problema di non aver ricorso contro la delibera della giunta regionale sia per l'aeroporto ma soprattutto per il sequestro dei 780 ettari di terreno che ha tolto alla disponibilità di Prato. E ha determinato a lui un piano operativo sul territorio che è assolutamente inadeguato per la Prato dei prossimi 20 anni.